Il nuovo hotel è Ibis Gate di Abu Dhabi, una carrellata, un'anticipazione di quello che c'è nel buffet. Questi sono soltanto i dolci, la frutta, i torroncini da portare via. Io ho uno yogurt, io lo domando voi allora, mi amavamo, abbiamo preso un torroncino, l'abbiamo rubato, questa è una carrellata leggera, leggera, leggera. Mi raccomando, non seguite i consigli di zio Roberto, continuate in perterriti, qui dentro ci saranno altre ghiottonerie, sorprese, vi deve arrivare ancora roba. E se abbiamo il banco gelato, mica siamo su MSC Crociere, vi fanno pagare anche il gelato, l'abbonamento, l'olio inclusivo e senza e congelato. Ah no, scusate, abbiamo anche la fontana di cioccolato, siamo in un tre stelle, tre stelle, tre, tre, quanto so Patrizia? Tre stelle, abbinate al quattro stelle il nuovo hotel, c'è tutto questo e qui non finisce, ancora carrellata, 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 carrellata. Guardate un po', scappa a farmi una doccia, che tra poco si inizia il festival. Ciao ciao, e lì c'è ancora altri banconi. Grazie. Grazie.